Un importante accordo sull'estensione degli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa e non complessa è stato siglato nella sede dell'assessorato regionale del lavoro a Cagliari con le organizzazioni sindacali e datoriali. L'intesa raggiunta nel corso della riunione, presieduta dall'assessore al lavoro Virginia Mura, prevede il saldo delle mobilità in deroga per l'annualità 2014 in tutto il bacino regionale e il riconoscimento della mobilità per i lavoratori per le aree di crisi complessa e non complessa che avevano l'ammortizzatore sociale scaduto o in imminente scadenza. Con l'accordo di Erno, ha detto l'assessore Mura, possiamo dare un briciolo di serenità in più ai lavoratori delle aree di crisi con la speranza di una ripartenza produttiva delle loro fabbriche. Sappiamo bene, conclude Mura, che non si tratta di un punto di arrivo ma di una tappa intermedia. In dettaglio è stato previsto di ultimare il pagamento dell'annualità 2014 con 45 milioni di euro, di prorogare di sei mesi l'ammortizzatore ai lavoratori dell'annualità 2015 in scadenza per altri sei mesi, così come per quella del 2016 che potranno arrivare fino ai primi sei mesi del 2017. È stato anche convenuto che se si riescono a reperire nuove risorse si potranno coprire le esigenze di altri lavoratori nelle stesse condizioni, ma non ricadenti nelle aree di crisi complessa e non complessa.